Ed ora ci andiamo a collegare a Milano con la nostra Jessica Balestra perché è in corso l'ultima giornata della BIT, la Borsa Internazionale del Turismo. Jessica, ti vediamo e ti sentiamo, allora aggiornaci sulle ultime novità. Buongiorno Rossella, buongiorno a te e ai nostri telespettatori, hai detto bene, terzo e ultimo giorno di BIT edizione 2024 qui a Milano. Al mio fianco sono in corso i panel di conferenza, in questo momento si sta svolgendo l'incontro con il Gal Piceno dal titolo Gal Piceno Quality Life ed è un po' il perno attorno al quale ruota questa edizione 2024 nella quale le marche si presentano come regione del benessere e della qualità della vita. E allora se parliamo di qualità della vita e del benessere, beh non possiamo non menzionare l'aspetto enogastronomico e culinario. Allora venite con me perché voglio farvi vedere una massaia all'opera. Lei si chiama Nadia, arriva da Pesaro Orbino e in realtà io ho detto massaia, ma sbagliando, perché lei è una spoglina. Buongiorno Nadia, buongiorno, che cos'è una spoglina? Chi è una spoglina? È una persona che sa fare la sfoglia e la pasta fatta in casa come una volta, quindi uova, farina, principalmente per le tagliatelle ma poi per tutti i tipi di pasta, pasta al forno, cappelletti, tutto quanto. Ci adattiamo. Ricerta? Antica? Rivisitata? No. Antica, antica, quindi un uovo e un etto di farina, la base e poi ecco. Poi olio di gomito. Esatto, voglia di lavorare e divertirsi e metterci la passione, perché più passione uno ci mette, più poi magari ben vengono anche rivisitazioni. Come li condiamo questa pasta? Fagioli, ricetta tipica pesarese con i fagioli. E da Pesaro? Sì, Pesaro, Novilara, che poi facciamo questa festa a luglio e a base di tagliatelle il piatto principe. Nadia, la lasciamo al suo lavoro e come vedete, come vedi Rossella, Pesaro è anche la capitale del gusto, oltre che capitale italiana della cultura per questo 2024. Noi continuiamo a vedere la nostra sfoglina Nadia al lavoro e tra poco sarà il momento della presentazione invece della nuova guida turistica di Cupra Marittima. Ve lo abbiamo raccontato anche quest'oggi nel corso della nostra trasmissione di Vera Mattina. Proviamo ad intercettare il sindaco Alessio Pier Simoni che vedo assorto nella lettura della nuova guida. Eccola qui, presentiamola caro sindaco, benvenuto, siamo in diretta col Tg, in anteprima ai nostri telespettatori. Eccola, buongiorno a tutti, quindi regaliamo quest'anteprima allora. Siamo venuti alla pizza quest'anno con un obiettivo in più che era quello di presentare una nuova brochure che fosse in grado di raccogliere gli aspetti principali delle peculiarità del nostro paese, cosa il nostro territorio può dare in più un valore aggiunto. E c'è anche il brand che richiama la Dea Cupra e ci sono all'interno tutte le caratteristiche, dalle bandiere ottenute, dalle immagini bellissime del nostro paese. E la cosa particolare è che siccome le cose da dire sono sempre tante, ci sono dei rimandi con il QR code, per cui con l'applicazione puntando il QR code c'è il rimando al sito dove chi vuole può approfondire i vari aggiornamenti. Insomma, quindi siamo felici di presentare l'anteprima oggi qui, tra poco, alla BIT, e felici di farla vedere a Vera TV, insomma. L'anno scorso è stata un'edizione fortunata per il comune di Cupra Marittima, quali sono le prospettive per questa prossima stagione? Noi stiamo lavorando da un po' di anni sia sulla destagionalizzazione, sia sul farci conoscere sempre di più, grazie anche alla collaborazione con le tante associazioni, la Prologo, l'ACOT, i Balneari, e quello di dare l'accoglienza, quindi cercare di dare eventi, intrattenimento per cittadini e turisti su un periodo dell'anno che sia il più lungo possibile. Quest'anno inizieremo col triadrono il 28 aprile, poi ci sarà la fiera di maggio, insomma cerchiamo di proporre degli avvenimenti di rilievo, di richiamo, in periodi lontani da quella che è la stagione tipica. L'anno scorso è andata bene perché a fronte di un vacanze sempre più corte per il caro vita, per quello che sappiamo, però sono aumentati gli arrivi, quindi nuove persone hanno deciso di venire a Cupra Marittima e speriamo di mantenere sempre. Più italiani o più stranieri? Sono più italiani, però cresce in maniera importante il numero degli stranieri. Ringraziamo allora il sindaco di Cupra Marittima Alessio Piersimoni, i dati che ci ha appena comunicato sono quindi in linea con quelli diramati qualche giorno fa dall'osservatorio regionale per il turismo che ci raccontava appunto di un aumento degli arrivi e del boom soprattutto degli stranieri che nel 2023 hanno fatto registrare un incremento del 12%. Per il momento ma solo, per il momento è tutto, Rossella ti restituisco la linea, noi continueremo ad ascoltare i vari panel e poi ve ne daremo contezza nel corso delle prossime edizioni del nostro notiziario. Grazie a te Jessica Balestra.